8 luglio 2024 hanno tolto l'amianto ma qua siamo ancora così deve intervenire l'ente locale e abbiamo avuto anche il rilievo del laser quindi non lo so che aspettano io invio per l'ennesima volta il mio video bisogna rimettere tutta la transenna e l'opportuna cartellonistica mi rivolgo sia all'ente locale che anche all'ingegnere all'architetto rosati del rspp e manderò questo video anche al rls grazie